Si parla della misericordia, del vivere quotidiano e del perdono, partendo dal video con la riflessione di Monsignor Pierangelo Sequeri. Il Vangelo dice, guardate, lo capisco che sembra un paradosso, ma la ricchezza per noi la accumuliamo nel momento in cui ci viene in mente, di qualsiasi cosa, persino con una matita, di fare qualche cosa che rende felice un altro. Allora improvvisamente io incomincio a capire anche chi sono io e rispondere alla domanda. Chi sono io? Sono quello che ha inventato quel sorriso. Questo non me lo può togliere più nessuno. E Dio non sceglie come credenti degli stinchi di santi, non sceglie dei superuomini e tuttavia apprezza il fatto che nonostante tutto e a dispetto di tutto, alla fine sempre li ritornano. Ecco, a me sembra che questo tiene in piedi la Chiesa, questa consapevolezza tiene in piedi la Chiesa. Se abbiamo questa consapevolezza siamo liberati dall'ossessione, siamo abbastanza all'altezza del... Oh mamma mia è successo questo, allora basta, tutto è finito, siamo morti eccetera. Siamo liberati. Noi guardiamo questo atteggiamento e questa non si chiama misericordia forse. C'è grande attenzione su lei?